torcerà contro per prima. Voglio fare una festa per il bimbo di Joe. Oh, si deve mettere la freccia quando si cambia discorso. La sua gravidanza è la notizia più bella che abbiamo avuto da un po' e sento di non aver reagito come avrei dovuto. Perché no? Perché sono stata, non lo so, invidiosa? Già. Un po'. Ho sempre voluto una famiglia mia prima di, lo sai. È stato un modo per farmi ricordare che a me non accadrà mai. Ma potrò vivere una vita con te, che è un'altra cosa che desidero. Perciò starò bene, ok? Ma permettimi di essere triste per un minuto. E se le cose fossero diverse? Se tu potessi cambiare tutto? Non lo sono. E non posso. Non può cambiare niente. Ti amo. Ti amo, Joe. Spero che sia importante. Ciao. Ciao.